Grazie a tutti. Certo che non sembra di essere al mare, non il mare inteso come nelle nostre... in Italia, insomma, ecco. Guarda che nella chiesetta. Qua sembra come? Cozzi Fou Canyon. Cozzi Fou Canyon. E' proprio un canyon. Quaranta minuti da Franco Castello. Cavolo, guarda qua come si tocca, no? Quasi più bello che quello di San Marino. Non vedo un camioncino, non c'è. Bon, è finita, le gole sono finite. Fou Canyon è finita. Andiamo a vedere, forse devo essere sull'altipiano. Eh, sì. Perché non credo che vada già giù. No. Anzi, vi è ancora un... un tornante. Certo che fai più buona con la lì, eh. Quasi più bello. 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 Grazie a tutti.